superanima 7 le porte della rinascita di jane roberts capitolo 16 cresce il disagio di jeffy boy e ram ram scompare nel nulla quando finì di scrivere ciò che avete letto fin qui fissai il manoscritto sconvolto oltre ogni dire i personaggi del libro stavano parlando di me e in un modo al quanto obiettivo con un'assurda specie di simpatia per la mia difficile situazione questo fatto si è sommato oltremodo alla mia inquietudine l'uso costante della terza persona riferito a me lui questo lui quello mi ha gettato in uno stato di panico se l'analisi del mio personaggio non fosse stata così perspicace forse non mi sarei tanto seccato ma molti passi che ho riletto mi descrivono con un affettuoso distacco che trovo molto sconcertante tutto questo ha rappresentato fin qui un cambiamento importante nel mio modo di agire anche se all'epoca me ne sono accorto solo velatamente per timore suppongo di dove la cosa avrebbe potuto condurmi ma lo shock è stato ancora più profondo rispetto alla presa di coscienza che il rapporto tra me e il manoscritto stava cambiando chiunque fossero o qualunque fosse il sistema adottato per scrivere il libro superanima 7 cyprus erano dei personaggi immaginari eppure il loro biasimo perfino la loro consapevolezza della mia esistenza hanno in qualche modo sconvolto le basi di tutte le mie convinzioni mi sono ritrovato a dire non hanno il diritto di farlo nessun diritto prima ancora di rendermi conto delle implicazioni del mio commento è una cosa piuttosto invadente questo strano libro e il sistema con cui mi è arrivato eppure avevo cominciato a pensare che potrebbe essere abbastanza interessante per un'eventuale pubblicazione senza ovviamente fornire alcun cenno di come è stato creato questo mi spinge a chiedermi quanti altri manoscritti siano nati allo stesso modo con degli autori abbastanza accorti da tenere la bocca chiusa ed eliminare qualunque parte potesse tradirli ma questo nuovo sviluppo che ho preso quasi come un affronto ha rappresentato un'ulteriore intrusione in cui l'irrealtà osava esprimere un giudizio sulla vita e in cui l'arte se la si poteva considerare arte un'arte dalla natura molto particolare si rifiutava di rimanere al suo posto e incominciava ad avviare un programma prestabilito per entrare nella realtà quotidiana i personaggi stavano diventando reali galvanizzando il loro creatore e arrivando al punto di esaminare le sue capacità e caratteristiche peculiari per un po ho guardato a questi ultimi sviluppi da una simile prospettiva anche se mi sono accorto che la premessa non era accettabile dato che a tutti gli effetti non ero io a scrivere il libro ma mi lievitavo a trascriverlo sotto dettatura questo stava dunque a significare che chiunque lo stesse creando si sentiva abbastanza sicuro nell'esaminare il mio carattere quanto per così dire potrei sentirmi io nell'esaminare le caratteristiche di un animale da laboratorio riguardo poi quella corsa in moto quasi disastrosa di will ero naturalmente piuttosto in ansia e pieno di suspense come lo sono un po tutti quando stanno leggendo degli episodi tanto movimentati se alla fine mi sono sentito risollevato la mia reazione è stata senz'altro più che naturale a questo proposito sono certo che la mia identificazione con will è stata enfatizzata da sette cyprus in quei passaggi dove ne fanno riferimento è fortemente improbabile per esempio che mi conoscano più di quanto io conosco a me stesso benché tutti noi abbiamo avuto qualche pensiero suicida nella nostra vita non me ne sono lasciato trasportare più di altri comunque sia tutte le volte che troverete nel libro qualche riferimento alla mia persona potrete quasi immaginarvi le mie controbattere ero a malapena consapevole di quello che stavo scrivendo e non mi ero neppure accorto di essere stato nominato finché non ho riletto il materiale mi era impossibile inserire qualunque commento nel testo anche a posteriori paradossalmente le mie reazioni non si adeguavano alla situazione o non volevano farlo le mie frasi non potevano letteralmente venire inserite nel libro era quasi come se ci fossero due tipi diversi di direttive che potevano coesistere ma non mischiarsi questo fatto naturalmente si è sommato ancora di più alla mia rabbia se loro potevano introdursi con tanto gusto nella mia realtà e far sì che io scrivessi il loro libro perché dunque non avrei potuto riportare nello stesso scritto almeno le mie reazioni personali ma poiché ovviamente non posso questi appunti rappresentano le mie affermazioni in parallelo l'altra versione o la mia versione personale del loro libro o se preferite del loro mondo l'unico mondo in cui sono gli animali dal laboratorio a redigere un rapporto scritto sono preoccupato forse finirò per vantarmi per come ho reagito positivamente di fronte a una serie di ingegnosi labirinti psicologici ed è proprio questo che sono indotto a fare eppure anche agli animali dal laboratorio vengono dati degli incentivi che ricompensa mi è dunque stata offerta a quali stimoli ho inconsciamente risposto la domanda stessa mia ad un tratto eccitato a tal punto che per un attimo smesso di scrivere colmo di aspettativa se sto gestendo un tipo diverso di labirinto rispetto agli animali dal laboratorio un labirinto multidimensionale per coniare uno dei termini usati nel libro in questo caso naturalmente le ricompense psicologiche vengono offerte come la carota davanti al cavallo questa affermazione piuttosto elementare ricorda moltissimo la prima concitata discussione che ram ram ha avuto con me in relazione agli esperimenti che aveva suggerito esperimenti per inciso che non mi sono mai stati del tutto spiegati ma in ogni caso mi è stato innegabilmente offerto una specie di vantaggio l'opportunità di studiare questa bizzarra esperienza dall'interno di prima mano nel laboratorio più isolato che ci sia in un certo qual senso cioè la mia mente pare che io sia il soggetto e al contempo l'analista e quindi mi trovo nella condizione di studiare il condizionamento comportamentale da un punto di vista privilegiato per la prima volta riesco a intravedere in tutto questo una sorta di logica che sono in grado di comprendere e se sono nel giusto ogni ulteriore impromissione del mondo del libro nel mio mondo è in effetti l'introduzione di un nuovo stimolo alla situazione le mie reazioni vengono dunque osservate perché non me ne sono accorto prima beh chiunque può partecipare a questo gioco dunque domani non scriverò neppure una riga su quel manoscritto infernale e aspetterò le loro reazioni sono scaltro abbastanza sveglio o nel giocare a questo gioco ho già smarrito i delicati confini dell'equilibrio mentale a questo punto mi chiedo se l'equilibrio mentale abbia o meno dei delicati confini vorrei proprio conoscere qualche collega davvero perspicace che abbia dimestichezza con ogni campo della psicologia e con il quale io possa discutere di quanto sta accadendo ma ormai in realtà sono già oltre quel punto e non credo in effetti che qualcun altro possa aiutarmi al tempo stesso ho paura almeno occasionalmente di finire come ram ram o peggio ancora anche la prospettiva di essere considerato un puro e semplice pazzo è una cosa per me tremenda dal momento che ero così abituato a considerare il mio atteggiamento psicologico come impeccabile tutta questa concentrazione di pensieri mi deve aver logorato mi sento stranamente stanco e faccio fatica a tenere gli occhi aperti le dita continuano a soffermarsi sui tasti della macchina da scrivere come incerte se continuare o meno mentre stavo scrivendo l'ultima frase senti bussare alla porta fui abbastanza contento dell'interruzione gridai avanti aspettandomi magari qualche studente o collega e invece con mia somma sorpresa si trattava di ram ram che stava all'ingresso con un ampio sorriso una sigaretta in una mano e un drink nell'altra scattai in piedi che ci fai fuori dalla clinica farfugliai immediatamente pentito di avergli fatto quella domanda beh sei guarito allora ti hanno dimesso ero così rincuorato di vederlo che gli afferrai il braccio e lo trascinai dentro con la sensazione che fosse l'unica persona al mondo a cui potessi parlare ammesso ben inteso che fosse sano di mente sono sano di mente quanto te disse ram ram come se mi leggesse il pensiero e questa è un'affermazione carica di significato davvero risposi pensando se solo sapesse quanto lo era e comunque ho sentito che volevi vedermi disse ormai sprofondato comodamente nella sedia di vimini che gemeva letteralmente sotto il suo peso in realtà sono sano di mente quanto i medici ma questo non dice molto o meglio sono ancora più sano il che mi colloca in una posizione molto particolare stava scherzando ed era di ottimo umore ma io dissi con imbarazzo ancora più sano che sano la cosa mi sembra sospetta non sei capace di dire se sono sano di mente questo pone te in una condizione molto particolare per la quale mi scuso e quindi finché sarò qui nel tuo territorio faremo a modo tuo puoi star certo che sono sano di mente tanto per adottare il tuo termine ammesso che tu sappia cosa intendi con questa parola naturalmente bene visto che il mio bicchiere è vuoto vorrei suggerirti di offrirmi qualcosa da bere sì certo scusa servì da bere entrambi lasciando sul tavolo la bottiglia di liquore e così mi hanno dichiarato completamente guarito disse ram ram sono più confortato di quanto non riesca ad esprimere dissi sinceramente lo so fece lui e debbi la curiosa impressione che le sue parole fossero a doppio taglio o che la sapesse più lunga di quanto non desse a intendere ma riguardo a cosa o forse il suo atteggiamento era semplicemente uno strascico della sua condizione una maliziosa reminiscenza di ambiguità psicologica come sta regina alice gli chiesi per metterlo alla prova bene proprio come ci si potrebbe aspettare rispose lui il che non mi disse nulla naturalmente ma tu stavi scrivendo una relazione una tesi o una specie di libro non è così mi chiese lo guardai fisso non sembrava diverso non agiva come se si rendesse conto di parlare di qualcosa che non aveva modo di sapere con assoluta certezza di che si tratta è un segreto a beh ho sentito la tua macchina da scrivere etichettare per ore dalla mia stanza al piano di sotto niente di cui lagnarsi si intende ma ho dato per scontato che tu stessi lavorando a una sorta di manoscritto quel tremendo nervosismo che gli aveva salito quando lui aveva parlato per la prima volta di un libro cessò in modo così repentino da lasciarmi stordito certo pensai lui si trovava nel suo appartamento al piano di sotto non nella casa di cura sarebbe stato strano se non avesse sentito la macchina da scrivere visto che in quell'edificio si poteva addirittura sentire uno starnuto a due piani di distanza stavo incominciando una tesi dissi in modo troppo sbrigativo probabilmente credo che potrebbe trasformarsi in un libro eccellente eccellente sì 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 il nostro ragazzo comincia a capire fece ram ram sfregandosi le sue mani piccole tozze io colsi con un certo disagio quell'allusione a me espressa in terza persona ma poi rammentai che quello era un suo tipico modo di parlare non solo con me ma con tutti era evidente che avevo reagito in modo eccessivo e fu con rinnovato sollievo che mi versai un altro goccio sebbene ram ram stesse ancora sosseggiando il suo ad ogni modo sono felicissimo che ti abbiano dichiarato guarito dissi devi ripresentarti per qualche visita di controllo devo tornare per tenere d'occhio regina alice rispose ram ram cambiando posizione sulla sedia stavolta il vimini scricchiolò in modo ancora più allarmante e ram ram fece un ampio sorriso prendi la sedia azzurra piuttosto dissi immediatamente quella di vimini la devo comunque buttare su un coraggio quella azzurra è molto più comoda metterò addirittura la sedia di vimini nel latrio già che ci sono e mentre ram ram si spostava portandosi dietro il suo drink il pacchetto di sigarette e il posacenere io cacciai la vecchia sedia fuori dalla porta con l'intento di portarla più tardi nel bidone dell'immondizia ram ram incrociò le gambe e stavolta si mise a suo agio sul divano sì voglio tenere d'occhio regina alice disse poi rivolgendomi uno sguardo pensieroso aggiunse vedo però che non mi vuoi dire cosa hai combinato beh è senz'altro comprensibile comunque sia in questo momento ti sto dando una specie di dimostrazione che non afferrerai finché non me sarò andato cosa intendi dire dissi tu sei un valente psicologo ci arriverai rispose ram ram e in ogni caso sono contentissimo di questa nostra breve chiacchierata sì 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 il nostro ragazzo sta andando alla grande a quel punto si alzò sfregandosi le mani con gesto rapido e nervoso anche se quasi compiaciuto e sorrise come uno stregatto e scomparve intendo dire che scomparve davvero io restai lì impalato e non credevo i miei occhi se n'era andato d'un tratto mi sentii stordito e presi a girare come una trottola o credette di farlo e mi ritrovai seduto alla scrivania con la testa abbandonata posata sulle mie braccia ram ram non era lì nella stanza non c'era alcun dubbio l'unica conclusione che avessi potuto razionalmente trarre era di essermi addormentato dopo la sua partenza e aver sognato la sua sparizione ma allora perché non mi ricordavo che se ne fosse andato allungai la mano per prendere il mio drink non era dove l'avevo lasciato il mio sguardo percorse la stanza non c'erano bicchieri usati sul tavolino non c'erano nemmeno bottiglie di liquore mi precipitai in cucina e con mia grande sorpresa trovai la bottiglia nella credenza senza alcuna traccia di spostamento quasi fuori di me tornai con la maggior calma possibile in soggiorno la sedia di vimini era sempre nello stesso posto stavolta mi versai un autentico drink e mi sedetti per raccogliere i miei pensieri ram ram non era stato realmente qui io non avevo spostato nell'atrio la sedia di vimini dunque l'intero episodio era stato un sogno conclusi non appena terminato di scrivere i miei appunti dovevo essermi addormentato e la mia preoccupazione per ram ram e il mio bisogno di parlare con qualcuno dovevano aver provocato i miei pensieri si interruppero di colpo la spiegazione del sogno non sarebbe stata plausibile l'intero colloquio era stato troppo lineare incominciai a pensare che malgrado tutto ram ram fosse stato qui in qualche modo ma avevo misteriosamente spostato pure la sedia e ram ram era davvero ancora all'ospedale cercavo di non pormi quest'ultima domanda ma non riuscivo a farne a meno ram ram era venuto qui in uno stato fuori dal corpo non avrebbe potuto sentire la macchina da scrivere se non fosse stato in casa come faceva dunque a sapere del manoscritto oppure per quanto potesse sembrare assurdo questa faccenda era tutta una mia creazione dunque non si trattava di un sogno ma di una totale allucinazione se era così ero nei guai ancora una volta te metti per la mia salute mentale ma di fatto ero troppo in collera una sana collera riflettei per pensare di essere pazzo avevo visto davvero ram ram e mi rifiutavo di dubitare del mio intuito io detesto i burloni e se ram ram mi aveva fatto qualche genere di scherzetto psicologico o psichico avevo intenzione di andare fino in fondo a questa faccenda in altre parole decisi di andare quel pomeriggio stesso alla casa di cura grazie a tutti